Il secondo capo è un passato solito, un plato felice e l'altro funzionato, scelto e sentito a far incontrarci due volte di città, due coloritari e molto attraienti. Castigna melodia sorpresa, a Miesi Dennis, e un'avventanza antica melodia di Milano alla Portugale Santa, a Nicola, i due temi, il primo molto pubblico, il secondo abbastanza di Dio, crea con una sola posizione attività, davvero interessante e desegnante. Perché c'entra il Natale? La grazia meravigliosa, riparta il suo canto, e la salvezza che ci viene da un bambino più grande, dal secondo canto e dal canto d'annaccia. La grazia meravigliosa, riparta il suo canto, la grazia meravigliosa, riparta il suo canto, Grazie a tutti. Grazie a tutti.